Va bene, allora iniziamo, come diceva Walter, è l'ultimo incontro del SIR di quest'anno e finiamo in bellezza con il professor Alfonso Berardinelli. Alfonso, chiaramente dopo essi dimesso l'università, è chiaro che metterlo. Alfonso Berardinelli, sono molto contento naturalmente dopo, come dicevo anche a Berardinelli, è molto tempo che cercavo di contattarlo, poi è stato grazie a Zangrando la fine che ce l'abbiamo fatta ed è giusto che Zangrando adesso presenti e poi dialoghi con Berardinelli. Niente, io direi, lascio la parola a Stefano e magari per qualche domanda successiva. Grazie. Ok, questo funziona. Sì, la parola. Io confesso onestamente che in queste ultime settimane di preparazione più o meno serrata di questo incontro ho pensato più volte che cosa si potrebbe dire per presentare Alfonso Berardinelli e non ne sono venuto a capo, nel senso che, no, nel senso che essere seduti al fianco di una persona che per noi per molti anni, negli anni dell'università, degli studi, poi degli studi dottorali, ha avuto una, cioè ha rappresentato una tale autorevolezza e una tale auctoritas nel campo della critica letteraria è una cosa più paralizzante che galvanizzante o che entusiasmante. Però, ecco, diciamo che l'unica cosa che mi è sembrato di capire, riflettendo su queste parole introduttive, è che probabilmente ognuno dei presenti, a seconda anche della propria appartenenza generazionale, porta con sé un suo Berardinelli, perché la produzione di Berardinelli, se posso chiamarla così, o comunque la scrittura di Berardinelli e il percorso di Berardinelli all'interno del Novecento, come critico, ma come attore della storia culturale letteraria italiana, nelle vesti di critico e saggista, è talmente significativa, importante, anche di lungo periodo, che ciascuno di noi probabilmente ha un testo al quale tiene più che ad altri. Insomma, recentemente in un social c'era un nostro collega, che non so se sia presente, che citava l'eroe che pensa. Per me sono state delle pagine su Paolo Volponi, che è l'autore su cui mi sono laureato. Poi negli anni di dottorato mi ricordo che parliamo spesso della forma del saggio, perché Berardinelli era l'autore, non so bene come chiamarti, autore, critico, saggista, mi sembra che tutto si presti un po'. Comunque colui che più di altri aveva tentato di dare al saggio la dignità, di un genere, direi proprio anche letterario, a parte, a sé, con un'identità, con una forma, quindi, in una tradizione, in un sistema letterario come quello italiano che oscillava tra accademismo o accademia e giornalismo. Poi, negli ultimi anni è avvenuto, allora, è avvenuto che dopo tutta questa lunga storia di Berardinelli come protagonista e commentatore e critico della letteratura italiana e non solo del secondo novecento, è successo che abbia finito a occuparsi in maniera un po' più ravvicinata, dopo essersi occupato a lungo e in maniera approfondita, soprattutto di poesia, che si sia occupato, finalmente, di romanzo. Berardinelli prima mi diceva che, incalzato da colleghi o da interlocutori che lo rimproveravano di non essersi occupato abbastanza di romanzo contemporaneo, a un certo punto ha cercato di farlo, fino a tirare le somme di questo lavoro. Ecco, per cui, io davvero più non direi, l'idea quando abbiamo immaginato questo incontro, ci siamo visti per la prima volta l'anno scorso al Salone del Libro di Torino, quindi in un contesto non precisamente evocato alla concentrazione, al raccoglimento e al dialogo letterario, però siamo riusciti a instaurare un contatto che poi si è sviluppato fino all'incontro di oggi, e nel frattempo abbiamo pensato, visto che comunque questo è un seminario sull'arte romanzesca, visto che da sempre, forse dagli inizi appunto, ci sentiamo interlocutori silenziosi e lontani di Berardinelli e della sua opera, capita in modo pertinente che tra i suoi libri più recenti, se si escludono una serie di piccoli scritti a carattere più o meno panflettistico, critico, saggistico, che sono quelli usciti per nottetempo, che hanno un carattere anche autobiografico, se si vuole. Tra i più recenti ci sono due titoli, che sono Non incoraggiate al romanzo, un titolo che parla da solo, penso, sulla narrativa italiana uscito da Marsiglio 2010, 10, se non erro, non vorrei sbagliare, 11, e poi più recentemente è stato pubblicato in volume il discorso sul romanzo moderno da Cervantes al Novecento per Carocci, che riprende sostanzialmente il lavoro saggistico sulla storia del romanzo, o comunque una critica storica del romanzo, che Berardinelli aveva redatto per un volume dell'opera enciclopedica al romanzo curata da Moretti intorno agli anni 2000. Con queste due opere avevamo di fronte sostanzialmente due testi complementari, perché mentre il discorso sul romanzo moderno è una ricognizione critico-saggistica dell'arte romanzesca, delle sue origini, quindi da Cervantes, fino all'inizio del Novecento, cioè si conclude con Svevo, passando per dei tipi di personaggio, per delle caratterizzazioni che si richiamano comunque al personaggio romanzesco soprattutto, fedele in questo Berardinelli alla lezione di Giacomo De Benedetti, che è stato tra i suoi maestri, se così posso dire, e poi con Non incoraggiate al romanzo invece veniamo alla contemporanea, con una serie di interventi che magari, io mi sono fatto un catalogo tematico che possiamo magari approfondire, però diciamo la prima richiesta, la prima preghiera a Berardinelli era quella di creare, di provare a creare un raccordo tra queste due opere, un qualcosa che ci permettesse di farci un'idea grosso modo, adesso vorrei dire completa, però diciamo integrale per quanto riguarda la storia e il suo percorso critico, di ciò che Berardinelli pensa del romanzo, tenendo presente il fatto che Alfonso Berardinelli, come sappiamo, passa per essere uno scrittore critico idiosincratico, temuto dalle giovani generazioni, perché si crede che abbia in odio o comunque non abbia in simpatia la poesia contemporanea. Sono molte le opinioni scettiche, se non negative, che Berardinelli si è attirato addosso negli ultimi anni a causa della sua fedeltà a se stesso e a dei principi di scrittura saggistica che fanno di lui oggi ancora il più libero, forse anche il più onesto tra i critici militanti viventi. Di fatto, se poi leggiamo Non incoraggiate il romanzo, che è appunto quello che si occupa anche di contemporanea, ci rendiamo conto che Berardinelli non è un critico soltanto fatto di pars de estruens, ma ci sono delle pagine che, come posso dire, aggiungono alla penetrazione critica anche un entusiasmo di lettore che è contagioso. Vi confesso che tra gli autori che ci sono qui dentro c'è un autore che io non avevo ancora frequentato, che è La Capria, e dopo aver letto le pagine sulla Capria sono andato subito in internet e mi sono ordinato cinque libri della Capria. Perché ho detto che questo è un autore che, se è vero quello che si dice qua dentro, non posso non leggere, per me stesso, per quello che la letteratura può dare a me. E quindi credo che Berardinelli sia anche un autore saggista critico molto propositivo. Del Berardinelli critico del costume o della cultura italiana possiamo parlare poi a Latere, se volete, credo che ciascuno di presenti potrebbe avere una domanda diversa in base ai tuoi ruoli. Io mi fermo qui, sono davvero, lo sai, molto felice che Berardinelli sia qui oggi. Gli lascio la parola per un intervento suo, dopodiché dopo, alla fine di questo intervento, che dovrebbe durare insomma, non so, 30-40 minuti, lo vedremo, ci sarà un dialogo che darà spazio anche ovviamente al pubblico. Ringrazio molto Stefano Zangrando della sua presentazione perché rende anche l'idea così, rende l'idea delle tante cose di cui si potrebbe eventualmente parlare. e ovviamente vorrei dire che non è vietato affrontare qualunque argomento vi venga in mente, diciamo, dalla letteratura alla critica, da romanzo a altri generi letterari. Sono molto contento e anche fiero di essere stato invitato da questo gruppo qui a Trento, che si occupa del romanzo perché mi sembra di aver trovato delle persone con cui si riesce bene a dialogare e a intendersi senza quegli equivoci, quelle opacità di una certa mondanità letteraria che purtroppo affligge un po' sempre, non solo in Italia, un po' dovunque nel mondo, questo si sa, i rapporti fra scrittori, critici, eccetera. C'è una forte sintonia e io, d'altra parte, ho anche capito poi, conoscendoli più da vicino, che probabilmente non sono all'altezza della loro competenza sul romanzo. Tutti loro hanno scritto il suo romanzo e chi è qui vicino a me, Zangrando, ha scritto un libro sulla teoria del romanzo in Lukács, Ortega e Cassete, Bakhtin. Io non ho scritto niente di quel genere, non sono arrivato, diciamo, in fondo mai, sono arrivato un po' tardi, ma spiegherò in che modo, a pubblicare dei libri. Quindi, diciamo, questo è stato chiamato volume, ma come vedete come volume non è molto voluminoso. È una specie di discorso, non a caso è stato intitolato discorso sul romanzo, perché è un discorso costruito come un discorso, cioè senza che io mi sia messo a studiare o a rileggere di nuovo gli autori di cui parlo, ma è come la sintesi a memoria di ciò che nel corso della vita avevo pensato a proposito dei grandi classici, che ovviamente, come capita a molti di noi, mi era capitato di leggere. Avevo riflettuto a lungo, avevo discusso a lungo, a voce, o anche nell'insegnamento universitario di queste cose, ma non avevo mai scritto un discorso, diciamo, che avesse una sua coerenza sul romanzo. Non incoraggiare il romanzo è un titolo provocatorio, che riguarda una certa iperproduzione, soprattutto ispirata dall'editoria, dalla... lo vedremo poi magari alla fine, adesso non voglio fermarmi su questo, perché potrebbe portarci su, diciamo, su un sentiero un po' laterale. Una polemica che è polemica e insieme constatazione. I libri non si vendono, poi ne riparleremo, se ne vendono pochi, i lettori di libri diminuiscono. E sembra risultare agli uffici commerciali degli editori che i libri che possono rischiare di vendere di più sono quasi esclusivamente i romanzi, o i libri dei giornalisti, o dei calciatori, o dei divi televisivi, o degli attori, eccetera. Ma questo ha portato ad una specie di eccesso produttivo. che non ha più a che fare con la letteratura. Ecco, in questo senso, non incoraggiare i romanzi. Dunque, cominciamo un po', vediamo. La conoscenza romanzesca, no? è lo sfondo, dentro il quale io arrivo qui, giustificato da questo titolo. D'altra parte, il titolo dell'incontro è Incontro con Alfonso Berardinelli, quindi la mia persona non è esclusa. ma di fronte all'enormità del tema generale, oltre che di fronte alla presentazione che mi è stata fatta da Zangrando, sento di non essere esattamente all'altezza. Tenterò quindi di essere almeno all'altezza, cioè alla modesta misura di me stesso di fronte a un tale tema. E per attenuare la dismisura, fra me e il tema, non c'è che un rimedio parlare un po' in prima persona, fare un po' di autobiografia, di lettore, di critico e anche di intellettuale. Se è vero che il critico, come io credo sia, debba essere un intellettuale, altrimenti è un qualunque recensore, dal momento che di recensori ne esistono fin troppi e c'è poco da fidarsi. e ho sempre creduto e credo tuttora e sono costretto ogni tanto a ripeterlo, che oltre che inevitabile è anche doveroso nell'esercitare la critica conoscere e dichiarare i propri limiti, cioè i propri interessi, quali sono i propri problemi, le proprie preferenze personali, passioni, estetiche e intellettuali. Alcuni credono che dire io sia un abuso di narcisismo, io credo che invece sia una dichiarazione dei propri limiti. Se io dico che è vera una cosa senza dire che io penso che sia vera, è un abuso maggiore che dire che io penso che sia vera. Se dico io penso che sia vera, questo dà dei limiti alla validità del mio giudizio. Se io dico in generale senza usare la prima persona che la cosa è vera naturalmente è un po' più discutibile. Giacomo De Benedetti di cui ho seguito e restano nella mia memoria le lezioni raccolte poi nel volume Romanzo del Novecento le ho seguite nel 1963-64-65 aveva iniziato lui la propria carriera di critico alla fine degli anni venti indicando il rapporto fra critica e autobiografia. Quindi come si dice Piove sul bagnato è un saggio del 1927 critica ed autobiografia autobiografia che può essere sia esplicita sia preferibilmente secondo De Benedetti implicita per esempio come quella di un attore che nel corso della sua carriera scelga certi personaggi o certe opere per esprimersi. L'attore che entra in scena interpretando certi personaggi non dice io questo sono io ma non sarà un caso alla fine che avrà scelto solo quei personaggi e quelle opere che dicono anche qualcosa di lui e che lui sentiva il bisogno di dire in pubblico attraverso la mediazione di un personaggio questo direi che vale se l'autobiografia è implicita anche per un critico non si sceglie a caso di parlare di certe cose o meglio un vero critico non sceglie a caso ogni critico ha i suoi autori e i suoi libri che lo aiutano a pensare di volta in volta a che cos'è la letteratura ma anche che cos'è la propria vita e il mondo in cui vive gli autori di cui Giacomo De Benedetti si è occupato di più sono stati forse si sa Proust e Saba un raffinatissimo snob chiamiamolo così Proust che riuscì solo tardi a capire che cosa scrivere e come scrivere e d'altra parte Saba un poeta che disse che si trattava ormai di scrivere che la cosa più importante era scrivere la poesia onesta era un poeta quasi ottocentesco nel novecento sincero e personaggio in scena alquanto populista al contrario di Proust uno andava in alto l'altro in basso De Benedetti era portato alla più sottile introspezione lo dimostra il suo interesse per Freud per Jung per la psicanalisi in generale data la sua ipersensibilità problematica in quanto ebreo ipersensibilità problematica nei confronti della società che cosa ci sto a fare io e come posso stare in società ma aspirava ad avere anche una comunità un'appartenenza una patria un pubblico si può dire di lui che era uno scienziato in senso lato della letteratura un dendi nel senso che si sentiva molto vicino anche personalmente nella propria vita allo stile di vita degli artisti e un rabbino in un certo senso anche se la cosa non è mai esplicita rabbino nel senso che cerca di raggiungere e capire esplicitare una saggezza leggendo dei testi che in questo caso non sono la Bibbia ma sono la letteratura contemporanea un appassionato di Wagner alla ricerca quindi di un io profondo archetipico che cerca però lo fece De Benedetti di amare anche Verdi l'opposto di Wagner per sentirsi italiano e per avere anche una socialità per socializzare il proprio io un grande lettore della critica francese per esempio Alberti Baudet era uno dei suoi autori che però corre incontro fraternamente o meglio da figlio a padre al nostro Francesco De Santis di cui ammirava l'energia analitica ma anche narrativa e didattica qui viene fuori il rabbi che è un tanti è un il rabbi è un insegnante De Santis è il più italiano dei critici italiani oltre che forse il fondatore veramente l'archetipo della critica in Italia seguendo le lezioni di De Benedetti sul romanzo del novecento in cui campeggiano Proust Joyce Pirandello Tozzi Kafka avevo imparato che il novecento nasce contro e al di là dell'ottocento realistico e naturalistico dell'ottocento acqua basterà o ci vuole un medico nell'ottocento il romanzo cioè l'epica moderna diceva De Benedetti è un'epica della realtà nel novecento diventa un'epica dell'esistenza nel primo caso epica della realtà può esserci lotta e confronto fra individuo individuo personaggio e ambiente ma c'è anche soprattutto intesa trasparenza reciproca fra la logica del personaggio la sua volontà i valori i progetti e la logica del mondo sociale me la vedo brutta nel caso dell'epica dell'esistenza oddio mio mi presti la voce se potessi De Benedetti scrive c'è un divorzio un divorzio che si è consumato tra il personaggio e ciò che gli succede no no ci vuole un medico ricola questa è pubblicità non posso fare ricola c'è un divorzio tra il protagonista e ciò che gli succede si è perso cioè il rapporto nel romanzo del novecento tra personaggio e vicenda come dire tra l'uomo e il suo destino nell'epica della realtà funzionano quindi le tecniche letterarie del realismo con tanto di trama logica e coerente cause ed effetti nell'epica dell'esistenza più che la trama contano i rari momenti privilegiati in cui l'incomprensibilità del mondo e del proprio destino si aprono improvvisamente in una specie di momentanea illuminazione estatica in cui uno all'improvviso realizza chi è e che cosa gli succede intermittenze del cuore le chiama Proust epifanie le chiama Joyce in questo caso il tempo il tempo narrativo non è più un tempo omogeneo è lineare ma è un tempo che si spezza si interrompe all'improvviso si dilata in una straordinaria radiante dice Joyce intensità conoscitiva o viceversa si contrae nella grigia sordità dell'insignificanza come succede nella nostra vita di tutti i giorni in cui non capiamo nemmeno bene che cosa facciamo e perché nell'epica della realtà quella autocentesca la conoscenza romanzesca ha bisogno di articolarza in un'architettura di costruirsi una trama concatenata per cause ed effetti in una vicenda dinamicamente progressiva come succede nella maggior parte di noi nell'epica dell'esistenza gli atti sono meno importanti delle percezioni la verità della realtà nell'epica dell'esistenza è oltre al di sotto al di là della superficie delle azioni e dei fatti è cioè un'emozione illuminante quasi abbacinante in cui lo scorrere del tempo si blocca nel presente dando senso almeno per un momento al passato e al futuro alla memoria e alla volontà o al desiderio di futuro dunque prima il romanzo è conoscenza storica diciamo così somiglia alla storia il romanzo poi diventa conoscenza mistica forse sì mistica in un senso di momenti isolati prima è razionale nell'ottocento e poi è irrazionale più o meno c'è nel romanzo del novecento un elemento di irrazionalità che nell'ottocento non c'era Proust e Kafka che sono i maggiori e più originali scrittori del novecento secondo me avevano senza dubbio carattere e ispirazione o piuttosto mistici erano e non erano romanzieri e narratori erano anche poeti e filosofi in un certo senso Proust un grande saggista Kafka è una forista e diarista che ragiona per parabole da ragazzo fra i 13 e i 15 anni mi ero messo in testa di diventare narratore romanziere la poesia tradizionale in versi in rime scolasticamente mi disturbava perché lontana dalla vita ovvio in ogni adolescente leggevo soprattutto Chekhov Dostoevsky Tostoi oltre che l'amleto con cui mi identificavo chissà perché adesso so perché un paio d'anni dopo passai agli americani del novecento Hemingway figgerald Faulkner quest'ultimo Faulkner che aveva imparato il monologo interiore o flusso di coscienza da Joyce mi fece capire che ero novecentesco quindi più epica dell'esistenza che non epica della realtà e che avrei avuto bisogno di raccontare se avessi raccontato se ne fossi stato capace piuttosto per salti e interiorizzazioni più che per continuità narrative e descrittive trame e ambienti un po' mi annoiavano mi interessava quello che succedeva nella testa nella psiche nell'esperienza che il personaggio aveva della propria esistenza cercavo il magnetismo dei momenti di intensità rivelatrice mi capitò però quasi contemporaneamente di leggere i quartetti di Elliot una delle grandi opere delle maggiori opere poetiche del novecento e mi sembrò che come Faulkner e Elliot avrei potuto scrivere narrativa poetica diciamo così monologhi lirico-narrativi e raziocinanti nei quali fosse possibile andare all'essenziale saltando i noiosi e laboriosi passaggi intermedie lo capite no? la realtà è spesso noiosa l'epica della realtà l'esistenza è sempre interessante per chi la vive e gli adolescenti a questo puntano sia nell'angoscia che nei momenti di felicità questa adolescenza mi aveva però preparato alle lezioni che avrei seguito alle lezioni universitarie che avrei poi seguito di Benedetti alla sua idea delle due epiche contrapposte aveva anche letto lo straniero di Camus sempre a liceo quasi un Hemingway che conosca Kafka cioè praticamente un autore impossibile che però fonde insieme due aspetti fondamentali del novecento se ci pensate Calvino in fondo è stato influenzato prima da Hemingway e poi più tardi da Borges che è una specie di successore un nipotino di Kafka oltre che il narratore Camus era un filosofo esistenzialista a proposito di epica dell'esistenza e capivo che l'esistenza è insensata se non incontra interruzioni nelle quali si autorivela in cui esploda in un significato illuminante salti nella continuità salti rivelatori nei quali la nostra percezione di noi stessi e degli altri si intensifica in una specie di parossismo emotivo conoscitivo grazie al quale si sa chi si è che cosa si deve fare che cosa si vuole cosa si può e non si può quale destino è il nostro il titolo del saggio del 47 nel quale De Benedetti propone la sua teoriva infatti personaggi e destino era dunque quello di Pruste Joyce Kafka Pirandello e Svevo il romanzo davvero e nuovamente moderno perché era moderno anche quell'800 in senso lato che si poteva scrivere nel 900 fra anni 50 e anni 60 questa convinzione che il romanzo del 900 fosse quello fondato da Pruste Joyce Kafka eccetera questa convinzione sul romanzo diede luogo però all'idea del romanzo d'avanguardia che secondo me è quasi un ossimoro un controsenso facendo dimenticare con l'idea del romanzo d'avanguardia che le avanguardie le avanguardie dal futurismo al surrealismo avevano denigrato l'arte di raccontare e il romanzo stesso e ogni genere strutturato formalmente poesia compresa perfino quella moderna portando tutta la letteratura romanzo e poesia verso l'esplorazione un po' meccanica del magma del caos psicolinguistico le parole in libertà di Marinetti la scrittura automatica di Breton è stata l'involuzione l'autodistruzione o deterioramento o l'invecchiamento secondo Adorno che scrisse un saggio l'invecchiamento della musica moderna negli anni 50 precocemente fu questo invecchiamento o autodistruzione delle avanguardie nelle neo avanguardie postmoderne a farmi capire che le rivoluzioni formali a quel punto a metà novecento erano diventate un gergo e una nuova accademia nonostante la loro convinzione rivoluzionaria era una replica e non una innovazione non era possibile continuare a prescrivere e a programmare l'innovazione ininterrotta e distruttiva dei generi letterari dicevo dico tuttora sì alla mescolanza dei generi alla ibridazione di un genere con un altro e tenderei a dire no anzi decisamente no all'azzeramento dei generi al puro flusso verbale all'uso perfino antisemantico della lingua come in certi aspetti estremizzati dissero le neo vanguardie in realtà anche in pieno novecento dagli anni venti e in parte già allora il romanzo non aveva seguito non aveva applicato né preso come modelli obbligati Proust Joyce e Kafka le forme narrative dopo di loro hanno smesso di essere realistiche e di adottare la forma della trama strutturata e progressiva e semmai la tipologia del personaggio a contare diventando estraneo a se stesso e all'ambiente sociale come succede a Mattia Pascal e a Zeno che non capiscono bene che ci stanno a fare basta fare un elenco di narratori novecenteschi del più vario tipo per capire che il romanzo del novecento contrariamente a quello che forse il mio stesso maestro De Benedetti pensava non somiglia per niente né alla recherche né all'Ulisse né al processo o al castello di Capca Hemingway Moravia Fitzgerald Henry Miller Malraux Orwell Lawrence Karen Blixen Singer cito quasi a caso Tomasi di Lampedusa Elsa Morante Sol Genitzin Böll Sol Bello eccetera Casomai diventa più frequente il romanzo saggistico dunque più autocoscienza intellettualistica che demolizione delle strutture narrative del resto sia Svevo sia Svevo che Musil e anche Thomas Mann avevano già praticato il romanzo saggistico alla narrativa postmoderna e anche a quella attuale hanno insegnato in fondo loro Mann Svevo Musil più che non Proust Joyce Kafka perché troppo singolari e irripetibili per avere un seguito inimitabili casi unici che aprono e chiudono un'esperienza innovativa con i loro stessi capolavori solitari L'Ulisse la Research il Castello sono opere che non prevedono un futuro interrompono la tradizione ottocentesca e insieme però non aprono al futuro realizzano quello che dovevano realizzare e in se stessi lo chiudono narratori anomali e in un certo senso fuori canone che hanno insegnato più ai filosofi e ai critici che non ai romanzieri delle generazioni successive il mio discorso se ve lo discorsetto sul romanzo moderno da Cervantes al novecento perché insomma avere l'improntitudine di pubblicare un libro che dice da Cervantes al novecento in poco più di cento pagine insomma quasi una maleducazione però questo discorso o discorsetto nasce esattamente da un tale movente critico da queste riflessioni appunto sull'importanza o meglio la realtà innegabile dei generi letterari che appunto per un certo periodo negli anni cinquanta sessanta le neo-avanguardie cercarono di eliminare sorpassare superare generi letterari che corrispondono in realtà secondo me a diversi tipi di autori a diversi tipi di conoscenza la poesia il romanzo il saggio il teatro ha un certo particolare bisogno di esprimersi e di rappresentare di esprimersi e o rappresentare diversi tipi di rapporto con il linguaggio e con il pubblico e anche il tipo di lettura varia secondo i generi quando leggo l'infinito di Leopardi non sono lo stesso lettore di quando leggo il misantropo di Moliere o Guerra e Pace Tostoio Out Out di Kierkegaard una per scherzare una micro teoria da caffè o da osteria diciamo dei generi letterari potrebbe essere questa che il poeta lirico è un esibizionista dice che cosa prova perfino Leopardi così discreto è un po' esibizionista soprattutto nella sera di festa che tutti ricordano il narratore è un voyeur perché sta lì che scruta che cosa fanno gli altri lui sta fuori e li osserva il drammaturgo direi che è piuttosto un sadomasochista a cui piacciono molto le liti è uno che alla finestra si diverte a vedere che gli insulti che uno rivolge all'altro quando due litigano nel cortile e di fatti la maggior parte delle grandi opere teatrali sono incentrate su delle tremende liti in cui la gente si dice tutto le cose peggiori insomma e però come dire la verità emerge nel dirsi tutto senza ritegno offendendosi spesso guardate alla maletto che cos'è il saggista qui essendo io un saggista mi sono un po' più arrovellato perché si capiscono a volte meglio gli altri che se stessi anzi è la regola il saggista è uno che nasconde le proprie emozioni dietro i propri ragionamenti dunque esistono è vero generi misti o più precisamente opere ibride ma esistono anche i generi che si mescolano non se se devono mescolarsi non devono distruggersi e ogni genere a sua volta è spesso impuro ingloba e usa qualcosa di altri generi ci sono poi i generi di discorso preletterari da cui i generi letterari possono nascere e possono alimentarsi per esempio la lettera Kafka scrive una quantità di lettere alle sue improbabili fidanzate il diario l'inchiesta la cronaca giornalistica il reportage il manuale perfino per esempio PEREK è un manuale istruzioni per l'uso la vita la lezione che sono in un rapporto questi generi di discorso rispetto ai generi letterari sono in un rapporto più direttamente pratico in genere con la comunicazione privata o pubblica preletteraria narrazione dialogo discussione argomentazione monologo si trovano in tutti i generi alle origini e poi nei momenti di passaggio o di crisi il romanzo diventa più saggistico o più diaristico o più cronachistico o più teatrale dialogico o poetico in Defaut Stern Voltaire Rousseau Diderot il romanzo oscilla fra giornalismo cronaca filosofia dialogo conversazione qualcosa di simile succede nel primo novecento e nella postmodernità quando le forme del realismo più maturo e codificato dell'ottocento entrano almeno momentaneamente in grave crisi ma una cosa mi sembra certa immaginare un romanzo senza personaggio e privo di trama significa uscire dal genere dal patto con il lettore e da una tradizione secolare il lettore di romanzi vuole credere grazie alla verosimilianza e all'effetto di realtà e all'identificazione psicologica che le cose narrate siano state o potrebbero essere reali in questo senso realtà incontro con la realtà e personaggio sono i pilastri del romanzo qualcuno obietta e cita Borges e Beckett Borges e Beckett due classici del postmoderno non sono ne hanno mai voluto essere davvero dei romanzieri questo va ricordato la critica moderna volto un po' pagina la critica moderna la critica mi interessa molto come dire mi auto-identifico quella raccontata da René Uelleck in una enorme in una quantità di volumi che sembrava che non finissero mai prima quattro poi altri quattro è più o meno coetanea di romanzo questo è secondo me abbastanza interessante nasce nel settecento la critica moderna e non ha più a che vedere niente come invece alcuni professori credono con la poetica di Aristotele e con i trattati classicistici di Casselvetro o di Boalot che era riflessione sulla retorica e che prelude alla neoretorica che è andata di moda negli anni sessanta e anche settanta e annuncia la teoria della letteratura la critica è un'altra cosa la critica moderna nasce con l'interrompersi della tradizione nasce con l'illuminismo ed è una tipica forma espressiva del filosof militante dell'intellettuale militante nasce con le riviste con lo spectator di Addison Steele col caffè di Verri con la frusta letteraria di Baretti in un secolo il settecento nel quale anche la filosofia prese la forma del pamphlet del discorso saggistico o della lettera come in Schiller lettere sull'educazione estetica dell'uomo e quel saggio che forse effettivamente è uno dei pilastri o forse l'origine della critica moderna che è il saggio sulla poesia ingenua e sentimentale che pubblicato proprio nel 1800 più e oltre che letterato competente letterato il critico moderno è un intellettuale da qui nascono alcune delle mie polemiche anche recenti un critico della società e delle idee un tendenziale teorico di riforme sociali un moralista del linguaggio pubblico filosofo giornalista e pedagogo e anche Francesco De Santis la sua storia della letteratura italiana è l'epica e il romanzo della nostra cultura letteraria gli autori da De Santis vengono trattati come personaggi per esempio è ovvio il caso della contrapposizione Dante Petrarca è la contrapposizione fra due personaggi ancora più che fra due opere fra la commedia e il canzoniere sono proprio la persona Dante la persona Petrarca a essere contrapposti arriva perfino a dire che fisiognomicamente erano opposti e qui è il patos psicologico morale sociale anche che attirerà Giacomo De Benedetti verso De Santis Giacomo De Benedetti che in Italia è stato un po' il De Santis del personaggio uomo del personaggio nel romanzo del novecento posso fermarmi poi vedremo se c'è qualche passo del discorso sul romanzo di non incoraggiare il romanzo che può servire eventualmente a rispondere alle vostre domande o a parlare ancora di critica grazie Ricola grazie a Ricola è vero potrei andare in televisione adesso internet allora grazie Berardinelli come vedete quando quando c'è una voce d'autore o quando una lezione contiene in abbondanza indizi di una vita interiore come direbbe il nostro amico Pablo Dors che è intervenuto un paio d'anni fa al seminario gli stimoli sono molti e ci sarebbe molto da chiedere io non lo so rispetto a quello che è stato detto c'è una questione che noi del seminario sulla quale ogni tanto ci arrovelliamo e che incontra i suoi testi soprattutto laddove si parla di realtà allora l'incontro con la realtà si dice allora io credo che l'utilizzo della parola realtà possa creare parecchi problemi se si prende il concetto di realtà alla luce di ciò che anche le filosofie del novecento ne hanno detto ma penso soprattutto proprio per volare più basso alla naturalezza con cui oggi si parla della realtà come se la realtà coincidesse con l'attualità con la cronaca con ciò che di più serio è suscettibile di interesse impegnato accade nel mondo tanto che si sono create anche delle come posso dire delle posizioni teoriche più o meno teoriche ecco si è parlato di nuovo realismo insomma ora nel momento in cui noi leggiamo se ipotizziamo questa lettura dall'epica della era proprio della realtà mi pare a epica dell'esistenza io vorrei mettere lì appunto un concetto che forse è di matrice kunderiana come il nostro seminario che appunto è quello dell'esistenza però il romanzo esplora l'esistenza o esplora la realtà o la realtà è solo l'interlocutore del personaggio però in fin dei conti per gettare luce sull'esistenza umana cioè l'intento del romanziere è davvero quello di rappresentare la realtà o invece il realismo è una forma di mimesi che può tranquillamente assecondare la vita interiore o il caos della vita interiore o il caos della realtà perché comunque non esiste una nozione univoca o una nozione facile di realtà lo dico perché sappiamo benissimo che in fondo il romanzo a trama il romanzo ottocentesco si basa su una convenzione fortissima cioè la realtà riordinata in una trama per quanto complessa come quella del grande romanzo dell'ottocento di quella fase che Berardinelli ha chiamato apoteosi del romanzo è una convenzione se si vuole non solo è una convenzione ma è anche una costruzione una costruzione estetica allora io credo che questa però ce la siamo davvero lasciata alle spalle non tanto perché i modernisti ci hanno fatto vedere altri volti dalla realtà e perché il postmoderno in qualche modo ci ha indotto a non prendere più sul serio nulla e quindi non sappiamo più come orientarci come ritrovare una serietà nell'approcciare la realtà e noi stessi tutto questo ovviamente visto da oggi perché noi siamo in qualche modo ci sentiamo coinvolti da questo sguardo e quindi dalle letture romanzesche come intende lei Berardinelli questo rapporto con la realtà è un rapporto cangiante che si evolve insieme con la nozione di realtà nella storia della modernità o che altro? Direi che si evolve cioè si potrebbe dire che il romanzo è quello strumento quel marchigegno letterario che continua a inseguire la realtà cercando di capire che cosa è diventata dunque nella nozione di realtà va inclusa secondo me soprattutto anzi costituzionalmente l'idea che la realtà è quella cosa che non si prevede che non si prevede io avevo messo qui nel libro non incoraggiate il romanzo un epigrafe di Oden che è molto eloquente il reale è ciò che vi colperà che ti colpirà che vi colpirà come veramente assurdo l'inevitabile è ciò che ti sembrerà succedere come puramente per caso il reale è ciò che ti colpirà vi colpirà come realmente assurdo quindi la realtà non è un dato la realtà è qualcosa con cui i romanzieri come tutti noi tutti i giorni cerchiamo di fare i conti cercando di capire che cos'è e non riusciamo mai a catturarla cerchiamo di catturarla e questo è un processo in atto ma nella maggior parte dei romanzi la realtà si manifesta si impone in varie forme sia nell'arco di una trama sia attraverso momenti privilegiati di rivelazione diciamo nell'epica della realtà è la trama che alla fine rivela al personaggio attraverso spesso la disillusione il disincanto il disingagno come dicono gli spagnoli che ciò che il personaggio immaginava che i suoi progetti i suoi desideri si scontrano con qualcosa che non prevedeva questo succede nel romanzo ottocentesco continuamente l'apprendistato alla realtà si conclude quasi sempre con una sconfitta una disillusione o un mutamento di visione delle cose nel romanzo novecentesco diciamo nell'epica dell'esistenza la cosa avviene invece per momenti di rivelazione che non hanno esattamente a che fare con la trama quanto con dei momenti illuminanti in cui non si sa perché la nostra chimica interiore ci fa capire qualcosa che un momento prima non capivamo la percezione di ma succede perfino nel romanzo dell'ottocento questa divisione di Benedetti questa tipologia fra le due epiche non va intesa secondo me come in senso puramente progressivo prima c'era questo poi c'è quest'altro perché momenti di rivelazione ci sono anche del romanzo nell'ottocento insomma quando Andrei Bolkonsky ferito guarda il cielo si rende conto che la guerra le sue ambizioni militari i suoi propositi sono niente in confronto a ciò che è fuori delle vicende umane ciò che non è costruzione dell'umano noi viviamo in un mondo umano e valutiamo ci regoliamo secondo le norme le regole le aspettative i conflitti che il mondo sociale interumano ci suggerisce ma intorno a noi poi c'è la natura ma la natura non è solo intorno a noi è anche dentro di noi per esempio il corpo una malattia può dare una rivelazione quando è ferito Andrei Bolkonsky capisce cose che quando era sano non capiva il cielo non è stato costruito dagli esseri umani e quindi la visione del cielo è la visione di qualcosa che di un tipo di una realtà che al di là della nostra presa non crede in niente Andrei Bolkonsky non crede in nulla non è un cristiano non ha una mentalità religiosa però vede qualcosa che non appartiene all'umano e questo gli rivela qualcosa su di sé il suo carattere naturalmente sappiamo che tende alle svolte e alle disillusioni avviene anche nel rapporto con Natascia si innamora però che fa invece di rimanere accanto a Natascia se ne va in Europa perché il padre disapprova questo matrimonio quando torna lei povera ragazza ha ceduto per questo istinto erotico giovanile all'istituzione di Anatoly Kuragin e Andrei Bolkonsky che è l'uomo più disponibile alla disillusione che si conosca subito dice che non se ne può fare più niente la realtà è qualcosa che continuamente si modifica e che rende appassionante la vicenda romanzesca se fosse un dato preliminare se fosse definibile preliminarmente il romanzo in un certo senso non avrebbe ragioni di esistere è una caccia alla realtà alla verità della realtà perché tra l'altro tra verità e realtà c'è anche una coincidenza dissidenza che cos'è veramente la realtà qual è la verità della realtà si capisce in certi momenti e non definitivamente ma questo fa parte della storia dei personaggi è questo che appassiona perché ognuno di noi evidentemente è interessato a questo che cos'è la realtà del nostro migliore amico che credevamo così amico e che improvvisamente invece o con una frase o con una cattiva azione si rivela per quello che non immaginavamo che fosse eccetera come finiscono i matrimoni come finiscono le amicizie come finiscono le carriere che immaginavamo progressive che improvvisamente si interrompono come un incidente o una malattia o qualunque cosa di incontrollabile improvvisamente irrompe nella cosiddetta realtà e mostra che la realtà invece non era soltanto quella ma c'era dell'altro è questo il romanzo è potremmo dire una continua lotta con una realtà che sfugge che sfugge anche al romanzo e che è il suo principio dinamico mi ricordo una frase detta in un'intervista da Solbello che somiglia un po' a questo ragionamento in cui lui diceva io cerco la verità ma quando lei se ne accorge scappa faccio solo una seconda domanda perché credo che poi dal pubblico ci sarà ci saranno parecchie suggestioni si è parlato dell'ansia di innovazione del romanzo modernista o cioè del fatto che poi è stato recepito in seguito ai grandi che sono stati poi ascritti alla costellazione modernista del romanzo si è introiettato una sorta di ansia di innovazione che però si è rivelata più o meno infeconda d'altra parte si legge anche da qualche parte nel discorso sul romanzo moderno ed è un'affermazione tendenzialmente io credo condivisibile quella per cui il genere romanzesco o l'arte romanzesca per quanto sia difficile forse impossibile definirla e darne un codice sistematico eccetera sia un genere autocritico autoriflessivo che tende a parodiarsi a riflettere su se stesso e ora a me piacerebbe che fosse così nel senso che è una definizione in cui mi riconosco ma mi chiedo se non sia anche questo un modo parziale di leggere una delle storie possibili del romanzo che è quella che magari da Rabelais e Cervantes passa per il Settecento di Fielding di Sterni di Derot e arriva poi al Novecento magari saltando a più e pari l'Ottocento dove invece questa autoriflessività si percepisce di meno e questo mi fa venire in mente come il titolo di un libro di qualche anno fa che si chiamava Storie del romanzo per cui di fatto ci sono altre correnti che questa etichetta di fatto non la legittimano o addirittura la invalidano è così oppure c'è un'altra chiave attraverso la quale possiamo leggere questa autoriflessività è il nostro bisogno di moderni a cercare in questo tipo di storia un'identificazione una possibile prosecuzione perché non sappiamo più incantarci in una finzione oppure non so chissà chissà nel senso che diciamo l'ho ripetuto ho cercato di mettere le mani avanti fin dall'inizio nel discorso sul romanzo e cioè che a un certo punto nascerebbe il romanzo sperimentale secondo secondo i modernisti come dire a oltranza quelli che tuttora anche oggi immaginano che si debba essere sempre sperimentali la mia risposta è che il romanzo è stato sempre sperimentale e cioè che è sperimentale il Don Quixote è sperimentale il Robinson Crusoe perché perché sono degli esperimenti si prende un personaggio si prende un personaggio che ha la fissazione dei romanzi cavallereschi e gli si fa fare il giro del mondo della società contemporanea e si vede che succede si prende un perfetto uomo medio abbastanza mediocre come Robinson lo si sottopone a un naufragio sono delle cavie diciamo così lo chiamate un po' cavie insomma sono le cavie dei romanziere le cavie con cui i romanziere fa i suoi esperimenti quindi in un certo senso si può dire che questo problema c'è nel corso di tutta la storia del romanzo che prende diverse forme in alcuni casi la cosa è evidente per esempio in Stern l'autoriflessione è evidente insomma lui ragiona sul modo in cui sta raccontando però per esempio è stato osservato che Defoe e Stern che sembrano i due opposti non si capisce se è romanzo moderno a parte Don Quixote cominci piuttosto con Defoe che è realistico che ci mostra un uomo pragmatico da solo in un'isola che cerca di sopravvivere che si cerca i suoi strumenti che esplora il mondo intorno a sé o se invece il romanzo non nasca da quel tipo di autoriflessione del narratore stesso che è Stern qualcuno ha detto che in entrambi i casi in realtà questi due prototipi del romanzo inglese hanno un presupposto filosofico nell'empirismo di John Locke per cui tutto è un'esperienza in fieri nell'uno è un'esperienza pragmatica che riguarda il mondo esteriore nell'altro è il pragmatismo è l'empirismo di chi nota il variare degli stati d'animo che quindi anche l'autocoscienza dell'interiorità è un processo senza presupposti senza a priori questo l'empirismo inglese è un po' questo poi Kant come si sa chi si è occupato di filosofia cerca di rimediare da bravo tedesco a questo disordine degli inglesi che si è rivelato invece un buon affare non partire dall'a priori ma cercare di vedere come vanno le cose per decidere cosa fare tutti e due sembrerebbero in realtà sembrerebbero due modelli opposti in realtà la sola cosa lo stesso Trostoi che potrebbe essere potrebbe sembrare il più obiettivamente realistico dei grandi grandissimi insomma secondo me Trostoi Trostoi sono il vertice del romanzo occidentale nell'Ottocento lui stesso all'inizio scrive Storia della giornata di ieri che è in pratica un'autoriflessione realistica dell'autore su se stesso e nell'ultimo racconto pure fa la stessa cosa cioè a un certo punto comincia a raccontare degli eventi e poi si interroga su se stesso quindi lo stesso Trostoi in realtà che era stato un grande diarista è un autore che sa uscire dalla macchina della narrazione obiettiva e interrogarsi sul perché sta facendo quello che sta facendo è un'autore anche Dostoevsky racconta nemmeno più la realtà la realtà la raccontano i personaggi il dialogismo quello che Bakhtin chiama il dialogismo e Dostoevsky è che la realtà non c'è è ciò che avviene attraverso il dialogo fra più voci e questo è quello è una cosa è un'altra lo stesso Raskolnikov non arriva a capire l'obiettività del suo omicidio senza il dialogo incalzante dell'ispettore Porfiri Petrovic che lo costringe dialogando con lui a capire che cosa ha fatto snida la realtà all'interno della stessa mente dell'uomo che ha compiuto la realtà dell'omicidio questa faccenda dell'autoriflessione diciamo è qualcosa che come dire è carsica cioè si immerge e poi riemerge all'interno della storia del romanzo ciò che c'è di appassionante nella storia dei generi letterari è proprio il fatto che sentono il bisogno di rinnovarsi e oscillano tra la tentazione di codificare il genere e la tentazione di distruggere la codificazione se se ne sente il bisogno e non tutti ne sono capaci quindi per esempio nel novecento dopo la distruzione della precedente codificazione autoscientesca realistica Proust Joyce e Kafka effettivamente modificano le regole ma le modificano così radicalmente che i narratori successivi si impauriscono facciamo questa ipotesi un po' così hanno paura di quella cosa perché come si fa a rifare Kafka come si fa a rifare Louis e Joyce come si fa a rifare Proust non si può se vogliamo scrivere dei romanzi bisogna che non lo buttiamo via all'ottocento lo riprendiamo fatto quell'elenco di nomi effettivamente gli autori di cui ho parlato sono molto più tradizionali da un punto di vista diciamo della costituzione del romanzo di quanto non siano stati Proust Joyce e Kafka molti teorici diciamo dei romanzi novecenteschi ipnotizzati dalla grandezza di questi capolavori indubbiamente io credo che io preferisco Proust e Kafka e Joyce però sono dei capolavori effettivamente ipnotici credendo che da quel momento in poi il romanzo avrebbe dovuto dovuto seguire quella strada questo è stato l'equivoco delle neo-vanguardie degli anni cinquanta riprodurre il modello Joyce il modello Kafka il modello Proust e sono venuti fuori è venuta fuori una produzione insomma piuttosto misera insomma deludente rispetto ai grandissimi modelli che hanno preso mentre in aree in cui il modello il romanzo d'avanguardia tra virgolette non ha preso mai piede come negli Stati Uniti e anche in Inghilterra l'arte l'artigianato del romanzo ha fruttato di meglio ha fruttato di più e tutto sommato lo sostengo alla fine di questo discorso sul romanzo un tra gli innovatori del primo novecento il più moderato che conosciamo quasi solo noi e cioè Sveo perché non è internazionalmente così noto il più moderato anche perché è più anziano degli altri quindi è più ottocentesco parte più ottocentesco non parte novecentesco del tutto una vita e senilità sono dei romanzi più tradizionali degli esordi anche i dublinesi però ecco un innovatore moderato non radicale come Sveo secondo me risulta più produttivo più istruttivo per i narratori postmoderni di quanto non siano i grandi rivoluzionari di primo novecento mette al centro Lio ma con ironia è saggistico somiglia lui più a autori come Kundera come Solbello come Philip Roth che non hanno niente a che fare con Joyce per dire quindi diciamo la storia dei generi è sempre in corso c'è un problema naturalmente di qualità di produzione di sovrapproduzione ci sono dei problemi di contesto che possono anche immiserire un'intera letteratura perché magari intervengono altri fattori di contesto che sono i nuovi media il rapporto con la tradizione la quantità di la cultura degli autori i romanzieri di solito contrariamente ai poeti non sono particolarmente culti quindi non si possono sempre non si può rimproverare la decadenza della narrativa ad una mancanza di cultura perché per esempio non so Hemingway non era certo un uomo culto eppure è stato un grande innovatore lo stesso Tostoi non è che avesse non è che fosse colto come Baudelaire ecco i poeti di solito hanno un senso della tradizione molto più forte i narratori sono il demone del romanzo è il presente anche se si scrivono romanzi storici si studia il passato ma dal punto di vista del presente quindi il narratore ha un istinto direi in genere aculturale questa genialità del narratore è anche un po' un mistero perché il senso di realtà è molto chi gliel'ha dato a Balzac il senso della cioè era un uomo che per scrivere la comédie man era necessario stare a casa tutti i giorni 12 ore a scrivere ma come ha fatto a capire tutto quello che succedeva nella società francese un uomo che stava sempre a casa sua è incredibile bisogna fare l'inchiesta ma che inchiesta faceva andava a cena andava a mangiare in una trattoria guardava le persone intorno a sé e è riuscito a capire tutto la genialità del narratore è un mistero è un mistero c'è anche un mistero in questo io ho conosciuto sono stato amico di Elsa Morante e mi ricordo che negli ultimi anni della sua vita mi diceva guarda quando scriveva Araceli non si capisce perché i narratori si mettono a scrivere la storia di un certo tipo dice a me questo personaggio mi è anche antipatico non so perché mi accanisco a raccontare la sua storia ce l'ho nella testa e mi impone di raccontare la sua storia così non è che voglio fare l'irazionalista l'arte è un mistero però esistono delle cose che effettivamente sono caratteriali insomma come quando noi facciamo dei sogni a volte si fanno dei sogni che ripetono piattamente la giornata di ieri e a volte si fanno dei sogni in cui dicono ma che cosa c'entro io con quelli che ho conosciuto stanotte ma non riesco a capire che cosa c'entro io ma come li ho conosciuti erano così evidenti in effetti in certi momenti della nostra vita onirica potremmo essere dei narratori io non ho nessun talento narrativo non riesco a capire come si faccia a raccontare una storia scegliendo che cosa debba essere detto prima e che cosa dopo ma quando mi capita di fare un sogno che mi sveglia e che sento il bisogno di trascrivere sono un perfetto narratore non ho un dubbio non ho dubbio di qual è la sequenza delle cose da dire io penso che i narratori in fondo hanno la capacità di sognare durante la veglia in fondo sognano vedono quello che devono narrare se uno si chiedesse perché dire prima che ha sbadigliato invece che dire che ha aperto la finestra che devo dire prima delle due cose se se lo chiede è finito gli deve venire normale cioè deve vedere che uno prima sbadiglia e poi apre la finestra o viceversa quindi se no non va avanti quindi c'è qualcosa diciamo che i processi artistici insomma forse devono rimanere un po' coperti ecco perché altrimenti se uno non è troppo consapevole è tentato di applicarli a quel punto sbaglia come se io mi chiedo come si fa a camminare mentre cammino inciampo la parola al pubblico c'è una mano alzata qui arrivo ah perché registrava si sente fin dal evidente chiaramente ecco registrava chiara ecco arrivo salve buonasera avevo un paio di domande che sono in realtà spunti come dire mezze riflessioni che mi sono venute in mente sentendola parlare insomma sulla base di un percorso che ho fatto io sono profano insomma perché mi occupo di storia antica però ho avuto modo insomma anche di leggere alcune sue cose e di questa chiacchiata insomma mi ha dato alcuni spunti di riflessione a proposito dell'isolamento insomma del narratore che allo stesso tempo però è in grado di produrre di avere una capacità penetrativa notevole sulla realtà mi veniva in mente che il convitato di Pietro un po' di queste riflessioni che abbiamo fatte Leopardi che è un altro che di vita ne ha vista poca e che però è stato in grado di come dire di generalizzare molto ecco mettiamola così e mi veniva da che era colto cioè che fosse colto c'è poco c'è poco da dire insomma ma mi veniva da pensare su insomma a quanto possa influire il peso della storia delle storie che i singoli poi scrittori accumulano nel loro nella loro formazione cioè quanto poi la formazione di ciascuno quello che uno ha letto o ha visto o ha fatto nel caso di Leopardi specialmente mi veniva poi influisca sulla sua produzione cioè quanto poi la vita dell'autore influisca sulla vita dei personaggi e secondariamente pensavo a pensavo a Erodoto come come antesignano come come antesignano dei 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 narratori moderni e come anche un un possibile spunto per per superare un po' questa l'impasse dell'epica dell'esistenza perché Erodoto è un personaggio che ha una visione sub specie eternitatis delle cose incredibile e allo stesso tempo non si fa mai mancare le notazioni di quotidianità spicciola e sui personaggi che sono personaggi grandissimi perché lui era un aristocratico che si relaziona con aristocratici ma butta lì osservazioni del tipo questo andava a letto con la moglie di quella in contesti di grande serietà di politica diplomatica e insomma mi mi chiedevo se questa questi due versanti di una visione dei destini delle persone che sia oltre appunto alla Volkonsky coniugata allo stesso tempo con la realtà di tutti i giorni possa essere una prospettiva insomma per andare oltre l'impasse del personaggio che non sa non sa più chi è ma tentare di integrare quella di Erodot è una grande epica che è quella di tutta l'umanità insomma e mi chiedevo se un modello di questo genere non sia in realtà dietro tanta parte della narrativa occidentale cioè il tentativo di coniugare le due esperienze ecco è abbastanza chiaro il discorso non è chiara la domanda in un certo senso ecco eh sì no questo notavo che eh Leopardi dunque eh su Erodoto lei ne sa infinitamente più di me quindi forse adesso io la interrogo io su Erodoto eh su Leopardi di cui forse ne sappiamo abbastanza entrambi certi processi chimici di trasformazione della materia avvengono a certe condizioni di temperatura e di pressione no grande pressione alta temperatura e avviene qualcosa per cui la materia si trasforma la pressione e la temperatura nella vita di Leopardi erano all'eccesso la solitudine lo costringeva la noia possibile che lo assediava lo costringeva ad una accelerazione straordinaria dei tempi di comprensione insomma per cui sembra che Leopardi non solo sapesse innumerevoli cose ma oltre che sapere le immaginava perché la sua fame inibita la sua fame di vita e inibita dalle circostanze lo portava a vivere come dire a vivere le nozioni che immagazzinava quindi sembra che lui abbia riflettuto su tutto su qualunque minuzia riflette sui suoni delle campane il campanile certe ore del giorno il passaggio dal giorno alla notte e come risuona la voce di uno che sta lontano come si ricorda la certa cosa il poveretto non aveva altro da fare non era indaffarato era per niente indaffarato noi siamo molto indaffarati e quindi ci risulta quasi incomprensibile io non voglio dire che non fosse un genio ma potrei arrivare a dire che il genio è anche il prodotto di circostanze genialmente avverse cioè obiettivamente avverse per cui se uno va a guardare tutto quello che c'è nello Zibaldone che poi è la base della sua opera è la materia è la lavorazione è la prima lavorazione della materia su cui nascono le opere beh si accorge che tutti i giorni era lì che ragionava o su una parola o su una sensazione o su un ricordo chissà se noi fossimo costretti da una situazione eccezionale i quaderni di Gramsci nascono dalla prigionia qualcuno addirittura arriva ad augurarsi la prigione perché essendo la vita troppo dispersiva dice ma se almeno mi mettessero in galera riuscirei finalmente a riflettere su quello che mi è successo insomma in Balzac in Balzac sicuramente la coazione a scrivere di cui non so alcuni sì alcuni no a volte possiamo aver avuto esperienza una certa coazione a scrivere per esempio un amore infelice la lontananza della persona amata che ti ha reso infelice per mesi e mesi ti fa concepire pensieri rivolti a questa persona gli vuoi dire un enorme le vuoi gli vuoi dire un enorme quantità di cose che di persona non puoi dirle perché non c'è e stai lì che continui a scrivere per esempio delle circostanze particolari creano una coazione a scrivere e a riflettere a rimuginare l'ossessività la cosiddetta ispirazione è una forma di ossessività che crea appunto delle speciali condizioni di temperature di pressione che ti inchiodano al tavolino e ti costringono ad andare avanti erodoto ne sapeva mille di cose non so non ha certo assistito alla battaglia di Maradona o assistito alla battaglia di Maradona no la racconta meravigliosamente sì 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 ah sono due tipologie sì diciamo diciamo ma in effetti poi però sono due tipologie che poi fedeli a se stesse perché uno in realtà è un filosofo e un poeta lirico l'altro è un grande narratore voglio dire insomma notavo una cosa ovvia che in alcuni casi è contraddetta dai fatti e cioè che due dei grandi autori da cui nasce il romanzo moderno Cervantes e Difo hanno cominciato a scrivere in tarda età e uno potrebbe pensare io tenderei a pensarlo mi meraviglio come in alcuni casi il grande romanziere invece sia tanto precoce perché loro di materia ne avevano accumulata Cervantes aveva un'esperienza straordinaria anche Difo e Difo è anche un grande giornalista cioè è uno che guardava continuamente le cose direttamente le conosceva come abbia fatto Thomas Mann a scrivere i Budenbrock a 25 anni per me è un mistero è uno dei grandi diciamo è uno dei grandi romanzi ottocenteschi scritto alla fine dell'ottocento ma come abbia fatto quest'uomo così esistenzialmente prudente protetto che si proteggeva da tutto che non aveva nessuna fame di esperienza esteriore come abbia fatto a costruire una macchina narrativa così perfetta meravigliosa in tutti i dettagli vabbè aveva l'esperienza familiare però certo non si può negare che a volte diciamo un giovane possa non c'è paragone con l'indifferente di Moravia che è un romanzo in fondo che si capisce che è giovanile però anche quello scritto addirittura buttato giù prima dei 25 anni anche quello meraviglia insomma d'altra parte lui aveva la tubercolosi ossea quindi non faceva altro che leggere e rimuginare su certi affari di famiglia esistono delle condizioni particolari che propiziano l'accelerazione interiore di certi processi del resto si sa che l'esperienza è una cosa molto strana insomma perché ci sono tante persone che avrebbero potuto fare esperienza di cose e invece ti rendi conto che i fatti a cui loro erano presenti o testimoni non hanno lasciato grande traccia su di loro di certe esperienze noi stessi abbiamo una fortissima memoria e di altre che dovremmo aver fatto invece non ne abbiamo molta ma questo è diciamo è qualcosa che va al di là o meglio al di qua della letteratura l'inchiesta e l'interiorizzazione ecco sono due cose l'inchiesta esterna e l'esplorazione esterna volete che vi parli della dell'esistenza dell'estroverso e dell'introverso no sarebbe troppo ovvio però ci sono delle persone che vivono estrovertite per esempio che entrano in una stanza mia moglie entra in una stanza e vede tutto vede i mobili vede il colore dei mobili vede le pareti vede gli oggetti vede i soprammobili poi mi dice ma hai visto che c'era quello no non l'ho visto ma tu non vedi niente io sono introverso lei è estroversa vede tutti gli oggetti li vede allora Robinson è estroverso Robinson è uno che è costretto all'estroversione perché se non fosse estroverso poveretto sarebbe morto nei primi tre giorni del naufragio ci sono delle condizioni che ti costringono all'estroversione quando quando viaggio se mi metto in viaggio e vado in un paese straniero divento estroverso perché temo cioè vivo in una condizione ambigua di curiosità erotica e di paura per cui vedo guardo gli altri perché non capisco come sono fatti mi incuriosiscono insieme sono anche portato un po' a temerli perché magari non so bene la lingua non so se sono dei ladri devo cercare di interpretarli ecco se andate a Napoli vi consiglio di essere più estroversi di quello che siate di solito insomma perché loro sono molto estroversi appena comparite loro vanno già interpretato è distratto può essere derubato per dire adesso scherziamo ma insomma però fa parte del funzionamento della percezione altre altre domande mentre lo porto da Massimo allora dico anche io una cosa cioè che è relativamente noto che Torstoi fosse un buon lettore di Stern anche quindi e fra le altre cose è anche noto che Guerra e Pace non fu accolto molto bene come romanzo e tanti pensano ancora che non lo sia e forse tutto sommato Mario non è neanche fino in fondo come diceva Slavski anche in merito a questo grande libro Massimo vai tu no ma no ma lui allora finisci no 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 comunque ringrazio molto Berardinelli perché beh da prima ci ha ricordato la lezione di De Benedetti penso che ci sia solo Berardinelli a ricordarcelo in Italia nel senso che diciamo che De Benedetti è un inattuale no nel panorama critico letterario forse lo era anche all'epoca visto che non gli hanno dato neanche una cattedra no fu bocciato due volte e infatti qualche volta ci penso anche perché io mi sono laureato su De Benedetti quindi quindi so la storia so la storia allora siamo cugini sì però va bene ma De Benedetti è stato l'unico in Italia che ha parlato del romanzo ragazzi noi siamo un paese senza romanzo cioè noi non abbiamo un romanzo voglio dire ai miei studenti cosa gli faccio leggere nell'ottocento ce ne sarà uno due tre nel novecento non so i professori delle scuole medie superiori sì ne hanno alcuni ma dopo diventa difficile quindi è anche normale che alla fine ci sia stato solo un grande critico che tra l'altro veniva da Proust perché parliamoci chiaro sì lui era attentissimo a tutto ma se non avesse succhiato il latte materno e Proust insieme forse non verrebbero fuori le lezioni sul romanzo e poi è passato a tutto il resto quindi mi piace questo ricordare De Benedetti anche perché in una mia ideale capitolazione di un libro di tutti quei libri che non faremo mai ma di cui facciamo gli indici però già fare l'indice è qualcosa non ti dà magari ce la farò ma c'è sempre l'unico italiano dei tredici quattordici è De Benedetti e chi devo mettere cioè chi metto vicino a Ortega e Gasset a Lucaccia a Bakhtin c'è chi devo mettere in Italia se è solo lui che ha detto qualcosa sul romanzo tra l'altro ha detto qualcosa sempre a partire dalle opere cosa che hanno fatto tutti e che spesso dimentichiamo e che credo che Berardinelli ci abbia ricordato cioè uno dice scloschi teorici formati sì ma questi non muovevano un passo se non partivano dalle opere tra l'altro gli scrittori erano suoi amici dici Bakhtin io non so se avete visto ma negli anni 90 hanno fatto di Bakhtin tutto filosofo del linguaggio antropolo tutto gli americani sono meravigliosi in questo ma Bakhtin tutto quello che ha detto lo ha detto a partire da opere romanzesche tutto quello che può aver detto che gli altri poi tirano fuori teorico della lì sì ma l'ha detto a partire da Dostoevsky da Rablè da Goethe e poi se l'è fumato perché non abbiamo il libro sulle Bildungsroman perché se l'è fumato anche quello non è stato preso cioè quello addirittura altro che non aver ridato la cattedra quello l'hanno mandato in esilio al confino volontario e se non era per 3-4 studenti intorno a lui non avremmo neanche le opere di Bakhtin e ricordiamocelo qualche volta lo dico in accademia perché in accademia facciamo sempre i conti con quelli che sono celebri e con quelli che non lo sono e Bakhtin sappiamo che ci ha avuto 50-60 anni prima che la sua opera venisse scoperta quindi Bakhtin mi sembra che sia presente in tutto quello che ha anche detto Berardinelli quindi ecco l'unica cosa che mi piacerebbe aggiungere rispetto a quello che ha detto Berardinelli è questa che mi sembra che torna sempre di molta attualità cioè non essendo un paese che ha una storia del romanzo fondamentalmente e non abbiamo quindi una grande tradizione romanzesca e lo sappiamo tutti da Manzoni a questa parte non facciamo altro che parlare di realtà cioè l'unico vero in generale è questo il realismo di cui oggi già penso Berardinelli abbia detto che una cosa che uno dovrebbe dare per scontato all'inizio del ventunesimo secolo cioè che la realtà è un'ipotesi cioè ci sono tanti cioè come dice il romanzo la cerca ma in fondo la cerchiamo anche noi ogni giorno perché forse bisogna distinguere quella che chiamiamo realtà da quello che che sono i fatti cioè sono due robe diverse forse e questo c'è una grande confusione in questo secondo me cioè una cosa è la realtà nel senso generale che non sappiamo bene che cos'è nella misura in cui noi stessi non sappiamo bene come ci rapportiamo a questa cosa e poi i fatti questi fatti che sono in fondo i dati grezzi no che poi passano sempre solo attraverso non la tua espressione ma l'informazione che non ha niente a che vedere con la tua espressione questo per dire che cosa che questa cosa bisognerebbe dirla chiaramente una volta per tutte perché oggi siamo ripiombati nel diciannovesimo secolo ma ma alla grande cioè noi oggi viviamo una regressione capite una regressione non perché io abbia un'idea progressiva ma perché è come se gli scrittori moltissimi in mancanza di appunto di forza di energia di immaginazione parliamo della parola chiave che è immaginazione e si limitano ai fatti come dire per la prima volta per me nella storia dell'arte in generale o forse per una seconda volta e gli scrittori si sono totalmente inchinati non voglio usare un termine più forte che potete dire al paradigma al paradigma scientifico cioè si sono inchinati come dire la realtà è questa è quella che ci dicono loro ma quando mai l'arte o lo scrittore anche perfino in pieno positivismo non si sono inchinati così tanto al paradigma scientifico informativo come dire la realtà è l'informazione o quella che dice la scienza quando mai un artista un romanziere ha creduto questo ha sempre scritto perché pensava che la realtà fosse molto più difficile molto più contraddittoria molto più difficile da strutturare invece noi siamo viviamo un'epoca in cui lo scrittore accetta tranquillamente che i fatti siano la sua materia se no non capisco perché ci sarebbe tutta questa inondazione di romanzi che in fondo trattano i fatti questo secondo me non saprei dire io parlo di regressione ma nel senso che mi sembra strano che gli scrittori insomma non si rendano conto perché è ovvio che non possiamo fare in modo che l'ottocento nessuno grande scrittore del novecento è ritornato a paradigmi precedenti senza passare per l'ottocento non si può in arte non si può in arte non si può l'arte conservativa non fa salti quindi anche il grande modernista che torna a Rabelais deve fare i conti con Flaubert con Balzac deve fare i conti cioè l'arte è conservatrice per dare ancora una volta ragione a Berardinelli tutti tutti gli avanguardisti quelli pensano che l'arte sia come la scienza che bisogna andare sempre avanti tutti i miei amici neo-neovanguardisti che mi dicevano ma adesso con le nuove tecnologie cambia tutto sì mi avrei detto cambia che ti compri un nuovo computer cioè che cosa cambia questa cosa con le nuove tecnologie cosa cambia cosa è cambiato abbiamo imparato di più a leggere lì ma cosa è cambiato per loro è cambiato tutto io penso che questa cosa degli anni 90 era presente negli anni 50-60 era presente sempre prima ma per il romanzo questo è impossibile non esiste un romanzo a parte che io toglierei tutte le etichette al romanzo ma tutte anche la parola anche tradizionale se permetti Alfonso perché dire romanzo tradizionale che cosa vuol dire? no no io di fatto volevo togliere anch'io l'etichetta di tradizionale sì perché voleva dire lo stesso per la poesia no? perché dai adito a quegli altri di dire no tu fai poesia tradizionale mentre noi facciamo poesia quella con gli ultrasuoni capito? Don Quixote non è un romanzo tradizionale no scusami Alfonso per dire anzi il Don Quixote per me quello che tu hai detto di Joyce io lo potrei dire del Don Quixote appunto cioè se uno si legge il Don Quixote trova dalla A dall'alfa alla omega tutte le possibilità strategico narrative dei romanzi qua lui ha fatto il giro ha già fatto i 360 gradi l'unica cosa in più che ha fatto Joyce è quella di spingere l'acceleratore sull'espressione linguistica basta ma dal punto di vista strategico se uno si legge con attenzione e con grande divertimento quasi sempre che cos'è che non si è inventato quell'uomo si è inventato che lui era un personaggio si è inventato che si incontrava con dei personaggi che lui stesso aveva prima da presentare cioè capite che oggi non gli passa nemmeno per la testa io ho come la sensazione che gli scrittori oggi abbiano un deficit di immaginazione ma da ospedali cioè nel senso che non c'è un deficit c'è un deficit cioè è come se dire ma no ma essere scrittori è scrivere come essere scrittori è scrivere cioè gli manca hai capito basta pensare che diciamo anche i più grandi scusa non ti ho interrotto vedo che ti sei ho diciamo ho colto il momento in cui stai per finire la maggioranza dei narratori in circolazione dopo pochi anni hanno scritto cinque sei sette romanzi l'amorante ne ha scritti quattro nell'intera vita Tomasi Lampedusa ne ha scritto uno Svevo ne ha scritti tre nell'arco della vita lo stesso Tortoi a parte la vastità ma Guerre e pace Anna Gerenina Resurrezione poi ha scritto molti racconti ma per dire c'è una specie di di fretta cioè la velocità con cui si scrivono le cose e non è non è nemmeno tanto la cultura letteraria che manca è la cultura del rapporto con se stessi che manca probabilmente con le cose che succedono che ti succedono e la smania di apparire di comparire diciamo dal punto di vista c'è una strana meccanica che chi ha scritto un romanzo non voglio essere qui non voglio fare una munizione a chi ne ha scritto già uno non smetterà più di scriverne ma è così scontato solo che c'è anche il problema dell'editoria non so se vado fuori tema leggendo il perché ho intitolato questo libro non incoraggiate il romanzo titolo impopolarissimo in un momento in cui anche mio cugino mio zio tutti scrivono il romanzo vorrei scoraggiarli ma sembrerebbe se solo è un problema diciamo di costume e anche proprio purtroppo editoriale che ha a che fare col destino dei libri se solo potessero gli editori darebbero il nome di romanzo a tutti i libri che pubblicano sembra ormai che ogni tipo di libro spaventi il lettore che romanzo no i libri di storia li leggono gli storici i libri di filosofia li sfogliano i filosofi i poeti non si leggono neppure fra loro le scienze sociali interessano poco di società si parla sui giornali e la prosa sterilizzata dei sociologi respinge il lettore comune dunque le librerie traboccano di nuova narrativa ma i recensori anche i più solerti riescono a digerirne solo una parte i teorici della letteratura e i narratologi sono ammutoliti da tempo gli storiografi sono soffocati dall'angoscia della quantità formula ripetutamente usata da Giulio Ferroni sapete ha scritto l'angoscia della quantità sta di fatto che il romanzo genere oggi più editoriale e merceologico che letterario monopolizza un'opinione pubblica più estesa e meno colta il romanzo così trionfa ma per poco quale critico saprebbe fare a memoria l'elenco dei libri di narrativa migliori usciti tre o cinque anni fa dopo la stagione dei premi la nuova narrativa circola al massimo fino alla stagione seguente quando nuove liste di candidati allo strega e al campiello cominciano a comparire sulle pagine dei giornali che il romanzo è un genere di consumo e di intrattenimento per tutti lo si è sempre saputo lo erano anche i grandi scrittori Dickens il romanzo d'avanguardia è stato un episodio o un controsenso ma il consumo è diventato più veloce e distratto e l'intrattenimento lo si trova in abbondanza altrove quanto a qualità artistica valore conoscitivo e documentario la maggior parte dei romanzi che si pubblicano non sembra nascere da nessuna memoria letteraria anche quando funzionano non provocano riflessioni e interpretazioni critiche non fanno storia se si eccettuano gli autori già in attività negli anni 80 mi pare che recentemente si è emerso un solo narratore pienamente consapevole della tradizione del romanzo Walter Siti ma Siti è o era un intellettuale e un critico che poi è già degenerato perché ha scritto troppi romanzi e farebbe bene a smettere come trappola acchiappa lettori comunque il romanzo resta la forma più efficace anche per diffondere informazioni e idee l'ultimo esempio è Gomorra di Saviano non è un romanzo ma si legge come un romanzo chiuse virgolette quando l'inchiesta si allea con una serie di immagini forti e con il mito di un personaggio che può essere anche l'autore allora succede qualcosa che un libro di sole idee non riesce più a provocare la lotta la camorra e la criminalità organizzata ha oggi il volto di Roberto Saviano del resto Raffaele Lacapria notò che se la nostra letteratura non ha saputo inventare molti personaggi memorabili sono gli scrittori stessi i personaggi più riusciti da Cellini a Casanova fino a Malaparte e Pasolini nel 1983 quando si chiudeva l'epoca della politica al primo posto Goffredo Fofi fondò una rivista Linea d'Ombra che si proponeva di accompagnare la giovane generazione dall'ideologia alla narrativa ciò che soprattutto vogliamo si diceva nella prima pagina di Linea d'Ombra è uno spazio nel quale la giovane narrativa italiana possa conoscersi e farsi conoscere chiuse virgolette ma già dieci anni dopo alla fine degli anni 90 ricordo che un protagonista dell'editoria italiana come Giulio Bollati constatava sconsolatamente che virgolette da quando gli italiani si sono messi a leggere romanzi più di virgolette la storia delle idee la storia sociale e la migliore saggistica non riuscivano più a trovare un pubblico così però anche il romanzo entrava in mutazione si impoveriva culturalmente perdeva consistenza intellettuale l'attuale sovrapproduzione di narrativa credo che sia un segno di patologia piuttosto che di salute non ho fatto calcoli precisi ma come eventuale recensore ho l'impressione di ricevere in omaggio uno o due nuovi romanzi al giorno eppure qualche calcolo bisogna farlo secondo i sei critici solo sei consultati l'anno scorso da Stefano Salis sul sole 24 ore i narratori promettenti sotto i 40 sono ben 50 se a questo numero se ne aggiungono altri 20 dimenticati e altri 50 tra i 40 e i 70 arriviamo a 120 romanzieri dopo questa aritmetica mi chiedo chi riuscirà a conquistarsi la qualifica di esperto di narrativa italiana contemporanea conosco bene diversi divoratori instancabili di romanzi italiani appena usciti leggono tutto e recensiscono brillantemente non so come facciano calcolando che per leggere un romanzo bisogna prevedere almeno un giorno chi segue la produzione di 120 autori ha bisogno di altrettanti giorni un terzo dell'anno vogliamo prevedere un altro giorno per recensirne uno a settimana siamo a 170 giorni difficile calcolare i tempi della riflessione del giudizio ma dobbiamo ipotizzare che il recensore divoratore legga anche i giornali legga sia romanzieri stranieri sia non romanzi nonché qualche autore del passato e soprattutto che ogni tanto pensi anche ad altro cosa dedurne che nessuno ne sa abbastanza la quantità è soverchiante siamo a un bivio la critica militante come la concepiva Geno Pampaloni è impossibile o inattendibile la democrazia letteraria di massa potenziata dall'uso del computer banifica l'autorità della critica e crea una letteratura senza forma e senza confini che nel suo insieme si sottrae a ogni definizione smettiamola perciò qui faccio un po' lo scettico sconsola smettiamola perciò di processare i critici e di stilare piccoli canoni legga chi vuole quello che vuole un'altra epoca si chiude quella dei giudizi quindi anche la critica è finita non c'è non c'è modo di venirne a capo diciamo che voglio dire era soltanto per dire che esiste una massa soverchiante e coloro stessi che scrivono non ignorano gli altri che scrivono voglio dire non so quale sarà la sorte di tutta questa letteratura prodotta negli ultimi vent'anni è difficile venirne a capo tanto è vero che ecco mi raccontava lui che sì Walter che quella storia della letteratura non faccio i nomi facciamo pubblicità o no sì conosco due modi di risolvere il problema uno è quello di fare delle considerazioni un po' sconsolate generali sulla iperproduttività e poi in corpo maggiore il corpo grafico maggiore poi nel corpo minore fare degli elenchi da elenco telefonico di tutti i poeti e di tutti i narratori oppure invece scegliere due o tre tre o quattro e ignorare gli altri concentrarsi su qualcosa non so delle due soluzioni da un punto di vista diciamo culturale qual è la più approvabile la meno discutibile ma certo che il problema è quello avere davanti un elenco di autori di cui non si saprà mai nulla oppure sceglierne quattro ignorando tutti gli altri vedete voi insomma qui è un problema di economia della propria vita e della vita di chiunque si occupi di letteratura soprattutto professionalmente quindi comunque c'è da dire la cosa una cosa che i due generi letterari maggiori la poesia e il romanzo sono entrambi ora praticati con enorme ottimismo esistono non so quanti poeti non lo so non so quanti io ho curato una recente antologia intitolata poesie italiane 2016 quando ho cominciato ad avere questa idea ho cercato di concretizzarlo ho immaginato che sarebbe venuto un volume abbastanza grosso poesie italiane 2016 considerando tutti i poeti che scrivono ho letto circa un centinaio di libri di poesia ho letto bisogna dire che non essendo così ingenuo sulla poesia in molti casi dopo la quinta poesia che non significava nulla ho chiuso il libro però insomma un centinaio e non sono riuscito nemmeno a raggiungere cento pagine dovendo antologizzare il libro consiste di 89 pagine volevo arrivare a 90 ho provato mi sono rigirato fra le mani la poesia candidata a essere la novantesima alla fine ho detto per onestà che andava esclusa e quindi sono rimasto a 89 quindi però c'è un ottimismo enorme sulla poesia tutto ciò che viene prodotto sotto l'ombrello o la dizione o la gigantografia del termine poesia a molti sembra che di per sé sia un valore andate a leggere e vedete che molto spesso non è nemmeno legibile nel romanzo devo dire che il romanzo da questo punto di vista nonostante tutto ha un vantaggio perché in fondo mentre nella poesia si è perso ogni artigianato si va a capo a caso e non si sa mai che cosa dire e se non si capisce quello che dici proprio per questo è poesia nel romanzo tutto sommato dal momento che il romanzo viene prodotto perché viene venduto mentre la poesia viene prodotta perché non verrà venduta un certo artigianato si mantiene però il livello dell'artigianato è assai basso in alcuni casi si ha l'impressione che questo artigianato arriva al punto che uno vuole fare una sedia con tre zampe sole non quattro come si dovrebbe fare che artigianato è cioè o di un tavolo senza il piano ecco ci sono le zampe ma non c'è il piano sono dei romanzi in cui non si però un certo artigianato deve esserci gli editori non ti pubblicano però spesso sono dei racconti dilatati fino ad una misura che sembra un romanzo e poi non lo è e soprattutto le due cose che dovrebbero essere costitutive del genere cioè l'invenzione di un qualche personaggio di cui il lettore possa interessarsi perché il problema non è la trama se io invento un buon personaggio anche se racconto che lui la mattina non so guardandosi la faccia mentre sta per farsi la barba fa delle riflessioni e poi non succede niente durante l'arco della giornata non importa se il personaggio è interessante vogliamo riuscire a capire che cosa gli succede a uno così poco interessante se riesce a rendersi interessante non essendolo perché anche questa è una bella soluzione ci è data nella letteratura del novecento le opere di Beckett sono tutte fondate sul fatto che non c'è niente di interessante eppure si va avanti solo in questo probabilmente è un grande scrittore ma se il personaggio non c'è non riusciamo a percepirlo e se andando avanti non si capisce perché viene detta una cosa dopo un'altra come dicevo prima a proposito dei sogni beh a quel punto il romanzo è leggibile io molto spesso non riesco ad andare avanti proprio non riesco a superare la terza pagina che fenomeno è questo dite voi a questo punto non è soltanto un problema critico è un problema dei lettori clinico io ho intitolato un mio libro casi critici casi critici volendo dire casi clinici o comunque voglio dire anche il fatto che in fondo la critica è un problema di casi di casi singoli non è un problema di che cos'è la letteratura ma di che cos'è di fatto la letteratura dire in generale che cos'è la letteratura è quella cosa in cui il linguaggio funziona così eccetera ma bisogna dire che cos'è la letteratura di fatto di fatto perché la letteratura non è un fatto è un valore è un fatto che abbia un valore non tutti i fatti hanno un valore sull'enorme quantità di fatti che accadono noi non fermiamo nemmeno l'attenzione fermiamo l'attenzione sui fatti a cui attribuiamo un valore e così letteratura non è possibile la teoria generale che non sia valutativa la definizione della letteratura implica il giudizio di valore se non c'è il giudizio di valore la definizione non regge perché può rientrare nella definizione astratta qualunque tipo di scrittura anche se non ha nessun valore il che voglio dire è una contraddizione perché non è più letteratura ciò che non vale non lo è ciò che non vale la nostra attenzione non è la letteratura e dei milioni di fatti che avvengono molti non sono nemmeno dei fatti va bene direi che questo è un uomo di niente applausi 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 applausi